Per chi si è appena collegato, intanto vi saluto, ciao a tutti. Oggi andiamo a fare insieme questo Danubio dolce di carnevale, con un ripieno di crema al cioccolato, quindi molto goloso e molto facile da fare. È un video in collaborazione con Pane Angeli, quindi per la preparazione di questo dolce utilizzerò i loro prodotti. Che ci serve? Allora, dobbiamo partire dal pan brioche per realizzare il Danubio, quindi per il pan brioche ci serve, vediamo se me li ricordo tutti a memoria. Allora, un uovo, 100 grammi di zucchero, tu controlla Marco se mi sbaglio, ok? 250 ml di latte, 60 ml di olio di semi di girasole, la scorza di un limone grattugiato, 550 grammi di farina, meglio se metà Manitoba, metà 00, e una busta di dolci lievitati, che è praticamente del lievito di birra con pasta madre disidratata, che è perfetto per fare i dolci lievitati. Anzi, io lo uso sempre perché mi dà la caratteristica che fa mantenere i dolci tipo kraften, brioche, 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 soffici per due o tre giorni, ok? Iniziamo? Ok. Facciamo sparire il risultato finale? Perché lo dobbiamo rifare insieme? No, ho fatto un po' più e io. Ok. Hai fatto venire un mal de' pangia che... No, è un'altra cosa che ho sapessi io che... Allora, tutti quelli che stanno arrivando, intanto vi saluto, ciao a tutti. E iniziamo. Vai, iniziamo. Ti ricordi come si è fatto Fabio? Mi ricordo, mi ricordo. Allora, mi preparo tutto. La prima cosa che dobbiamo fare è mescolare dolci lievitati alla farina. Come vi ho detto, 550 grammi di farina, se ce l'avete metà Maritoba, metà 00, meglio. E mescoliamo bene. Qualche volta mi avete chiesto e detto che fate fatica a trovare questo lievito al supermercato, dolci lievitati. Allora, potete sostituire i dolci lievitati col mastro fornaio, nel caso non li trovaste, ok? Quindi potete utilizzare quello. Quindi, primo step, l'abbiamo fatto. Messo il lievito di birra nella farina. Poi, mi è venuta l'ansia questa cosa. Un attimo, adesso ci rilassiamo, ricominciamo da capo, dai. Scusate tutti, colpa mia, ho fatto 5 minuti di vita. E chi poteva essere la colpa? Eh, vabbè. E chi poteva essere la colpa? Ma non è facile organizzare queste cose. E poi io sto pure un po' arrabbiata con lui, perché stavolta ti ho fatto un sogno. No, questo raccontiamola. Allora, Benedetta si è sognata che io stavo... C'avevo un flirt con un subletto della televisione, di cui non possiamo fare il nome per privacy. E' arrabbiata, ma poi ho sentito pure che te l'ha arrivato un whatsapp. Pure whatsapp, si è sognato. Io ho ancora ancora, sono ancora un po' arrabbiata con te. C'è il sogno, è per i sogni strani. E' troppo, so, quei sogni, sono i sogni che si fanno la mattina presto. Questo, quelli che ti ricordi proprio benissimo, no? Mi sono svegliata con questa questa immagine. E' cavolata con me che non ho fatto niente. Vabbè, un uovo. In una ciotola rompiamo un uovo. Aggiungiamo lo zucchero, 100 grammi. La scorza grattugiata del limone, che a me piace sempre, mettete un po' di profumo nel pan brioche. Anche l'arancio, eh. Se volete mettere l'arancia, potete mettere un po' di scorza d'arancia dentro, se vi piace. Tu intanto, leggiamo qualcosa, facciamo sciolto perché... Saluti, saluti. Come va la schiena? Allora, la schiena va benino, devo essere sincera. Pensavo di impiegare più tempo a recuperare, invece. Vabbè, avevo fatto tanta ginnastica prima, sono sincera. Tanto ginnastica posturale per rafforzare il corsetto, come si chiama, la muscolatura qua che tiene la schiena. E sto facendo tanta fisioterapia ginnastica anche adesso. E devo dire che sto bene, insomma. Quello che faccio un po', che mi fa un po' strano, diciamo, è che probabilmente l'anestesia faccio un po' fatica a concentrarmi. E quindi per quello anche oggi sto un po' cocimpotente. perché dico, ma non mi scordo le cose, non mi vengono i nomi. Come ti chiami tu? Marco, sono tuo marito, da 25 anni ci conosciamo. Ecco, vedi, mi capitano questi momenti così. Non mi ricordo tanto bene le cose. Sì, vabbè, dai, continua a Genova e fa. Ok. E da una mescolatina con la forchetta. No, comunque, anche il fisioterapista mi ha detto che probabilmente è l'anestesia, sono le conseguenze dell'anestesia, perché comunque ho fatto quattro ore di anestesia, e mi ha consigliato di fare cruciverba. Ok, siamo circa 2.000 su Facebook e 2.000 su YouTube, quindi siamo in 4.000. Saluto a tutti. Ciao a tutti. Tutti, tutti, uno per uno, di 4.000. Eh, di me qualche nome. No, a scusa, su Facebook siamo 6.000. Ciao a tutti e grazie, posso ringraziare in questo momento? Sì. Per tutti i messaggi che mi avete mandato, d'affetto, insomma, ma no, voi non ci crederete, ma mi hanno aiutato tantissimo, perché i primi giorni non sono state proprio facili, facili. E la paura dell'intervento era tantissima. Però mi avete raccontato tutte le vostre esperienze, insomma, mi avete proprio coccolato come si farebbe con un amico, e quindi grazie. Un momento lacrimogia. No, veramente, grazie. Allora, aggiungiamo l'olio. Corrisponde a 50 grammi, comunque l'olio. Non mi prevede, non mi prevede. Non mi prevede, non mi prevede. Aiutami, ma hai detto che non mi prevede. Mi ricordo queste cose, mi ricordo come ti chiami, però. Allora, aggiungiamo 60 ml di oli di semi di girasole, che corrispondono a 50 grammi, più o meno. Mi ha detto io. Qua vedi con un'altra sostituzione, perché qualcuno ha i brioche, li preferisce col burro, quindi se invece dell'olio volete mettere il burro, 60 grammi di burro. Mettete. Quindi stessa quantità di burro. Ah no, 60 grammi di burro. Scusa, scusa, dico niente. Non dico niente, direi che non mi... Va bene. Basta. Poi aggiungiamo 250 ml di latte tiepido. Mi raccomando, tiepido. Non mettetelo né troppo caldo, né ghiacciato dai frigorifero. insomma, perché la temperatura dovrebbe essere attorno 25-28 gradi. Non serve che lo misurate, vi rendete conto da soli. Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi. Grazie per i complimenti che mi fate. A te, vero? Che mi fai la spalla in queste dirette, che doveva partire in contemporanea e hai fatto un magello. No, vabbè, vabbè, abbiamo risolto comunque. E inizio ad aggiungere la farina a poca la volta. C'è una ragazza che ha anche fatto il tuo stesso sogno, però addirittura con l'amica. Allora, una ragazza, una ragazza, una ragazza poverina, ha detto che ha due sorelle, pure lei, due sorelle, due sorelle gemelle. No, c'è una sorella gemella e mi ha scritto che se era sognata qualche giorno fa, lo stesso che il marito si baciava con la sorella gemella e mi ha detto che stava terribile. Questa è una cosa molto comune, cioè io sento tante, ma hanno scritto in tante che si sognano che i mariti, i ragazzi, insomma, li beccano. Un sogno. Un sogno. Questo perché ci avete... Vabbè, è stato un brutto sogno. Però io ho tenuto il muso fino a stamattina, è la mattinata, so sincera. Lo guardavo con sospetto. Comunque non ho controllato se ti è arrivato quel whatsapp. Ma non mi arrivai a whatsapp, ma che ti puoi fare che cosa a livello lì mi hai scritto un whatsapp. Che poi era una showgirl, come si diceva, una showgirl, una showgirl. Vabbè, se te la sognata ho fatto lascio il numero di... Vabbè, continuiamo ad aggiungere la farina poca la volta. Mi chiedono per la sostituzione delle farine, se si può usare tipo la farina integrale. Allora, se volete farlo con la farina integrale, il mio consiglio è di non utilizzare solo la farina integrale. Fate un mix di 250 grammi di farina integrale e 250 grammi di farina zero. Cioè non lo fate solo integrale. Mettetene un po' di meno di farina rispetto ai 550 grammi, perché l'integrale è un pochettino più fibrosa, e quindi probabilmente ne servirà un pochino meno. Però se la fate tutta integrale, rimane un po' serratino come pan brioche. Anche lo zucchero, se volete metterne un po' di meno e utilizzare lo zucchero di canna, lo potete tranquillamente fare. Tu leggi se ci stanno domande, cose... Sì, questo impasto dicono che è molto simile a quello dei bomboloni. In pratica, sì. Voi considerate che il pan brioche lo potete... Insomma, questo impasto qua, lo potete utilizzare per fare sia le cose fritte che le cose al forno, dagli diverse forme fare un pan brioche unico. Insomma, quindi, se trovate il vostro impasto perfetto, diciamo che può essere quello di yogurt, che può essere con la patata, insomma ci stanno diversi impasti, lo potete utilizzare per fare un po' tutto. Puglio questo qua, però di quello che stai facendo adesso, questo si presta, abbiamo fatto anche i consigli di carnevale, di o meno giusto? Si presta per... anche per quello, sì. Ok. Allora, a tutti gli fa piacere vedere che stai bene, che ti sei un po' ripresa. Grazie alle cure del mio maritino. È stato lui che mi sta sempre vicino, eh? È vero? Sì. E quindi mi sono ripresa... No, no, sto bene. Un po' di... Manca ancora un po' di energia, la mia, perché sono una che faccio mille cose, allora sto ancora un po' frenata, perché è un po' la stanchezza, però insomma nel complesso sono contenta di aver fatto l'intervento, di essermi tolta il pensiero. Penso di essere mea pure un po' alzata, che dici? Se vede? Sì, se vede. Mi sono un po' allungata, perché stavo tutto così. Adesso sei più alta di me, praticamente. Sì. Quando l'impasto, eh... Quando l'impasto... Ti imbocco, ti imbocco. Grazie, grazie, mi fai l'autore. Quando l'impasto diventa più consistente, continuo a lavorarlo sul piano, bravo. Fino ad assorbire tutta la farina. Ok. Io sto impassando a mano, però, se ci avete un'impassatrice, come si chiamano una planetaria, vabbè, ecco, vedi, le mie parole non mi vengono. Se avete una planetaria, potete tranquillamente usare quella, fate meno fatica. Ok. Controllo quanti siamo su Facebook. In questo momento su Facebook siamo... 6.000. Ho fatto volar via le cose. Allora, mi prendo un pizzico di farina per spolverlo. Allora, il trucchetto del pan brioche soffice. Lavoratelo il più possibile. Ok? Più lo menate, più le fibre di glutine si allunga. Ma dai, che non le sai ste cose. Io di solito faccio così, utilizzo questa parte qui, delle mani per impassare, quindi tiro e allungo. Tiro e giro, tiro e giro. In questo modo qua, vedi che ho ripreso forza pure a fargli impasti. Ma è tra poco non ti salverà più la mia assistenza che non vedo l'ora. Comunque posso dire una cosa? Noi donne, abbiamo una marcia in più. Cioè, io ho fatto un intervento, insomma, abbastanza come se poi... No, sì. Vabbè, sì, c'ho la schiena. La schiena, un'intervento serio. Dopo un mese già... E che me qua, faccia tutto. Con attenzione faccia tutto. Lui, ha preso una storta alla caviglia, tre mesi. No, non posso. Porta fuori tu, Cloud. No, io non posso. Guarda, è goffia. No, perché voi uomini non ci avete proprio... Odina, ma che... Non voglio far polemiche, perché se no, c'è una brutta storta la mia. La bruttissima storta. Che poi capito, non si può dire lamentare, perché come gli era successo a questa storta, non so se chi si segue su Instagram, forse alla vista, praticamente il suo amato cane, gli permette di fare tutto, no? Quindi le buche in giardino, ma sì, Cloud, dai, diverti, ti sfoga, no, non farei poco, ma no, dai, si diverte, si sfoga. Ho preso una storta, su una buca di Cloud, non poteva nemmeno dire, mi ha sabotato, non poteva nemmeno di... Hai capito? Dalla colpa... Vabbè, non è successo niente comunque. Ok. Ci siamo ripresi tutti e due, no? Io la mia storta, bruttissima, in sei mesi di convalescenza, che è brutta. È tutto il intervento della schiena. Vabbè, dai. Ok. L'ho, da noi si dice, menato abbastanza, quindi, la consistenza deve essere questa. Un po' elastica, comunque morbida, deve rimanere morbida. Io adesso lo metto in una ciotola a lievitare. Guarda che effetto speciale che c'ho adesso, Di che non c'è un bravo marito. Devo finire di dire le cose. Vai, finissima. Ok. Non mi, diciamo, rubare i tempi. Ok, scusa. Ok. Non c'ho mai il coltello per fare la croce. Siamo quasi 10.000 persone in tutto, tra Facebook. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Questa me la rimetto del qua che adesso non mi serve. Allora ragazzi, gli ingredienti li trovate anche sotto in descrizione, se guarda, se siete su YouTube adesso li metto anche su Facebook, comunque li trovate. Vuoi che te faccio un regatto al volo? Se vuoi farlo, sì, perché no? Aspetta, facciamo una cosa. Metto anche la grafica. Aspetta. Dimmi, scusa. Mettiamo questa a lievitare e poi facciamo il regatto. Brava, brava, brava. Quindi ho messo, quindi ho messo l'impasto in una ciotola, faccio una bella croce sopra, qualche volta chiedete ma perché cosa serve la croce? Allora la croce mi serve a capire come sta lievitando l'impasto, perché praticamente, sbagli, sbagli, mi sta dicendo una cosa seria. Ma fa fin da venire, non stiamo indiretto, ma perché mi devi farlo? Praticamente durante la lievitazione questa croce si apre e quindi ci rendiamo meglio conto dello stato della lievitazione. Un po' se fa pure, perché le vecchie facevano così, no? Cioè facevano la croce per l'invidia, se dicono. Ok, quindi tutte e due. Ok, adesso? Adesso copro con la pellicola e faccio lievitare al caldo fino al raddoppio del volume. Serviranno circa due ore. Un attimo che faccio partire un effetto speciale. Metti a lievitare. Due ore, quindi? Due ore. Questo ecco. Non parte? Non mi parte l'effetto speciale. Non mi parte l'effetto speciale, mi sembra giusto. Aspetta, però allora non lo faccio vedere questo qui. Un attimo solo, vediamo. Allora, intanto vi dico, in inverno, quando fa freddo, gli impassi lievitano un pochettino più con difficoltà rispetto che in estate. Allora cosa faccio io? Accendo un paio di minuti il forno, tipo lo metto a 150 e lo faccio andare un paio di minuti. Poi spengo, quindi la camera del forno si è scaldata e accendo la lucina sopra che mantiene un po' la temperatura. Quindi si crea all'interno del forno una perfetta camera di lievitazione. Ok? Ti ho tolto dall'imbarazzo? Un attimo. Se per me parte sta cosa... Niente, però. Andata la lievitazione. Abbiamo fatto l'elegitazione? No, c'è il mio ragazzo che mi aiuta che fa. Ok. Quindi? Questo però non è quello lievitato. Sì. È quello lievitato. Ha fatto il trucco? Sì. Allora, facciamo prima di questo facciamo un ripirgo degli ingredienti. Ok, allora lo ricopro. Facciamo che non c'è più. No, no, non puoi niente mettere. Vai. Allora, vi faccio un recap di quello che abbiamo fatto. Abbiamo preparato il pan brioche. Per preparare il pan brioche, la prima cosa che ho fatto è mescolare i dolci lievitati a 550 grammi di farina, metà manitoba, metà 00. Poi in un'altra ciotola ho rotto un uovo, ho aggiunto 100 grammi di zucchero, la buccia, la scorza grattugiata di un limone e ho dato una prima mescolata. Poi ho aggiunto 60 ml di olio di semi di girasole, 250 ml di latte tiepido, ho mescolato e ho iniziato ad aggiungere la farina poco alla volta. Quando l'impasto è diventato più consistente ho continuato a lavorarlo sul piano, ok? Fino a quando non ho formato questa pagnotta che ho messo in una ciotola, ho fatto la croce sopra, ho coperto con pellicola e ho fatto raddoppiare al caldo per circa due ore, fino al raddoppio del volume. L'evitare al caldo? Ho detto di evitare al caldo. No, ho detto raddoppiare al caldo, vabbè non fa niente. Quando lievita un impasto raddoppia. Ok, scusate, io non parlo più, non parlo più. Ok, quindi adesso che cosa facciamo? Adesso dobbiamo dare forma. Adesso dobbiamo dare, dirlo, dirlo. No, adesso prima prepariamo la crema. Eh? T'ho fregata. Ok, quindi l'impasto è limitato. L'impasto da parte io? Lo tengo qua, metto qua. Ok. Metto qui che fa un altro momentino che non mi fa male. Adesso prepariamo la crema usando... Fammi organizza, balletto. Vai, te la passo. Ok. Ricordiamo che è in Pane Angeli. In collaborazione, ricordiamo che il video è in collaborazione con Pane Angeli, quindi... La crema di farcitura che utilizzeremo la crema al gusto cioccolato, che è una figata pazzesca se prepara in 5 minuti, è veramente perfetta, una busta è perfetta per la quantità del Danubio. E mi piace un sacco, sono sincera. Vai. Possiamo fare? Sì, sembra ciò, droghe giù. Ok, no, no, c'è l'acqua dietro. Questa tengo in scena. Non lo so. Non lo so. Sì, che poi c'è anche quella... La versione crema pasticcera, sì. Però la volevo fare in cioccolato. Ah, no, ma questo possiamo darla come consiglio, però, perché tante volte... Come faccio a fare una crema senza uova? È questa cosa. È questa di Pane Angeli che... Mi hai fatto... Mi hai fatto... Stavo dicendo una cosa. Ok, vai, dillo. Ok, va bene, in questa... In una giotola versiamo una busta... di crema al gusto cioccolato come ho fatto la sovraimpressione qua ok e io metto 200 ml di latte ok nella confezione ha scritto 250 ml potete scegliere se volete una crema un pochettino più soda una crema un pochettino più liquido io lo faccio con 200 ml perché la voglio un pochettino piussata perché va dentro il danubio lo riesco a fare palline senza ma tanti pasticci e con lo sbattitore e con lo sbattitore frullo fino a quando non si addensa metti la musica di sottofondo che faccio casino non fa niente casomai canto qualcosa io ho scritto tanto è veloce no già pronta quasi pronta è uguale un minuto la crema affronta e in un battibaleno è una boomer è una vecchietta e abbiamo diretta non devi commentare non deve fermare perché mi sembra diretta e abbiamo preparato la nostra crema di farcitura adesso che facciamo dobbiamo dar forma al danubio quindi formare tante palline ok quindi prendo una teglia già imburrata tra basso della passiva non ti muovere dalla scelta circuito marittino dai con un disco di carta forno sul fondo ok e praticamente devo fare dalle 15 alle 17 palline più o meno vedete come quando insomma quante ve ne escono io di solito ne faccio 16 per fare per riempire questa tortiera che del diametro che mi stavo scordando e tu che devi fare attenzione a questa cosa e del diametro di 26 cm quindi potete fare 26 28 cm di diametro ok mamma fa le palline che è lunga abbiamo tutte le sostituzioni dopo prendiamo le palline ci abbiamo tanto tempo per parlare delle sostituzioni vado allora l'impasto è ben lievitato dobbiamo formare queste palline allora le tecniche sono diverse ok però mi è venuto in mente mentre stavo facendo le prove di questa ricetta che per fare tutto molto prima posso utilizzare la stessa tecnica di quando si fanno i bomboloni quindi stendere l'impasto e tagliarlo con un coppapasta per ottenere una partita la diretta ok è praticamente queste palline siccome devono pesare dai 50 60 grammi piuttosto che lì fare un piloncino tagliare ogni volta pesare se stanno bene l'impasto uso un coppapasta di 9 cm adesso vi faccio vedere come si fa e il peso è quello e quindi facciamo molto prima e vengono tutte più o meno più molto più diciamo uguali detto bene non si è capito niente comunque va bene lo stesso la condiviamo che faccio prima ok allora metto un bel po di farina sul sul piano quanta quanta gente è fatto abbandonare durante questa diretta sono rimasti solamente 2.600 persone su youtube 67 mila di facebook se ne sono andati tutti per fortuna che ci sto io una letto ok lavoro leggermente l'impasto ma proprio poco e avendo sempre cura di infarinare bene il piano perché altrimenti si attacca stendo il pan brioche con un matterello faccio un po fatica quindi infarino anche sopra bene e allargo e allargo lo faccio dello spessore di circa un centimetro e mezzo per sicurezza adesso io non vi faccio le prove mi ricordo messo il coppapasta aspettate per sicurezza niente potete anche pesarle ok quindi che faccio col coppapasta di 9 cm di diametro faccio tanti rischi puoi ripetere quanti centimetri sono il coppapasta 9 cm ok vuoi che te lo ripeto proprio così perché non si è capito ho parlato sopra io vabbè con un coppapasta di 9 cm di diametro faccio tanti rischi scusa colpa mia circa 16 quindi ne fai più o meno si quattro diciamo se ne esce uno e meno in più non succede niente che poi tanto le palline che saranno praticamente le nostre palline si questo metodo c'è più veloce perché dobbiamo facciamo tagliere palline pesare invece così più dopo i ritagli l'impasto perché mentre in questi momenti di silenzio tu puoi anche dire qualcosa cioè non mi parlare sopra quando io sto spiegando le cose ma in questi momenti di silenzio in cui sto ragionando tu puoi dire la tua allora sì io adesso ti parto in giro qualche domanda va bene ok grazie per il like ragazzo senza un sacco di like allora questi intanto me li preparo qua 4 allora per quanto riguarda il ripieno qualcuno dice si può mettere tipo anche non ci può mettere ciò qua non può fare vuota allora si può fare vuoto si può mettere la crema pasticcera si può mettere la marmellata si può mettere un tocco di cioccolato fondente dentro che ci sta anche molto bene crema spalmabile la nocciola oppure al pistacchio oppure potete anche fare se volete fare il danubio però non volete fare sta cosa delle palline ripieno così quella potete mettere prima dalla seconda lievitazione tipo 150 grammi di gocce di cioccolato e fate il come è che si chiama il tipo panno cioccolato penso ma potete fare tipo tipo pane e cioccolato che è l'impasto anche questo quindi ne fai di più no perché se le conti conto un po ma ne sono dopo sei tu quella che si è distratta quindi ne mancano che arriva a 16 marco 12 quando ne manca ne mancano ne mancano da 12 a 16 4 guano bella lo so amiche troppo ci scarsi in matematica ok ma la macina sono 5 10 15 avremo più che ne scappano amici ne riuscirebbe un'altra moda andiamo veloce la faccio un attimo ragazzi ok quindi 17 ne sono venute ci sono venute 17 che sono perfette per la teglia facciamo sparire ok allora farina non ci serve più adesso adesso dobbiamo riempirle o devi stendere una persona allora adesso dobbiamo riempire le palline e colpa mia per il filo allora ok adesso riempiamo le palline lo facciamo una pallina alla volta quindi io che faccio da questo disco qui lo allargo leggermente ancora un po metto un cucchiaio di crema al cioccolato ok metto anche abbastanza abbondante perché mi piace che sia che sia bello ricco poi con un pennellino e un po di latte giro qui intorno al ai margini questo mi aiuta a non fare aprire la pallina in cottura e la chiudo a sacchettino come possiamo dire a chiudo come se vuoi di quando la mi chiedo così a sacchetto c ok pizzico sopra chiudo bene giro e arrotondo ok ok ho fatto la mia prima pallina vedete come viene bella tonda perfetta senza imperfezioni si è visto marco perfetto bravo hai visto come ho visto la vostra idea perché noi abbiamo 17 poi ci mettiamo uno anche quando chiaro quant'è che è partita la diretta troppo e vado vado così allora quindi allargo a dove lo già ok crema al cioccolato un cucchiaio di crema al cioccolato latte latte chiudo chiudo e a rotondo e faccio così con tutte le palline o adesso qui possiamo chiacchierare che c'era un casino no abbiamo detto allora a posto della crema al cioccolato siccome te crema pasticcera marmellata marmellata crema spalmabile la nocciola o crema al pistacchio un tocchetto di come si chiama un po di cioccolato cioccolato di buono scacco di cioccolato con la mente sa che ti dico che questo qua è bello pure per pasqua ma sì il danubbio anche con glassato così gli zuccherini sopra da noi si fanno un sacco di dolci per pasqua con i zuccherini sopra quindi è perfetto anche per pasqua si quindi se guarderete stato video dopo carnevale è attuale per fare pure per natale ma si no a natale si potrebbe cambiare la decorazione sopra e ci si può emettere ci si può non anticipiamo la decorazione perché quella quello un capitolo sta bruciato il mio io c'avevo tutto in mente un piano di racconto no a lui mi è stato anticipa grazie marco che sei una spalla così formidabile quando faccio no però quello che possiamo dire che se tu adesso lo stai facendo rotondo questo lo dico io perché ci ho pensato io allora io adesso sto facendo il dolubio gli sto dando questa forma tonda però volendo si può fare rettangolare utilizzando ad esempio una teglia da 6 8 porzioni oppure un'idea una ideona questo trovate io non è vero che la mia oppure i paninetti li potete cuocere sulla placca del forno ad esempio per un compleanno quindi metterli tipo 11 fate l'undici utilizzando i paninetti oppure un'altra era molto carina ci fate il numero 5 6 va bene io adesso con la forma del numero a forma di numero oppure potete fare un millepiedi pure molto carino e poi lo decorate con gli zuccherini colorati gli fa dell'occhi insomma con i liquidi che fa delle zampette insomma se avete un po di fantasia con questa ricetta qui potete fare mille mille altre cose ok troppo piano cerco di chiarissimo cerco di accelerare un po perché qua non si è arrivata nemmeno a me lo so è lungo ci stanno e perché tu poi mi ha fatto parte pure in il ritardo colpa mia adesso mette il turbo benedetta veloce benedetta veloce c'è un modo per velocizzare diretta in questa fase qua è qua siamo in diretta non possiamo mettere il montaggio ragazzi dovete sopportare un attimo dando raccontaci come come ti sei come ti stai riprendendo da dall'intervento che tutti stanno facendo allora qualcuno tanti ma hanno scritto che avete preso coraggio di farvi sin di valutare un intervento la schiena allora vi dico che comunque non è stata una passeggiata e prima di fare l'intervento ho fatto tanta ginnastica posturale per rafforzare tutti i muscoli che sorreggono la schiena quindi cioè sono andata sto recuperando in fretta perché c'è stato tanto lavoro prima e continuo a farlo anche adesso quindi insomma se volete anche voi pensare un intervento del genere insomma mi raccomando fate tanta ginnastica prima perché diciamo un po la chiave del recupero veloce preparazione la preparazione faccio non faccio ancora tutto tutto tipo non seguo la legna ecco la legna porto io per il cammino perché non vango l'orto da questi lavori così non mi porto il caffè a letto solo io porto a lei non prepara la tisana la preparo io non fa la spesa ma ci vado io tutte queste cose qua ecco dovete avere un marito come me sto cercando di fare più in fretta possibile tutto questo perché mi ha fatto perdere 5 minuti all'inizio che se no io secondo me io stavo perfettamente nei miei tempi e di leggi leggi dimmi aspetta che ti faccio ti pongo qualche domanda ponimi qualche domanda tutti quanti marco di fa perde il filo è proprio parte il filo marco aiuta no guarda io lo chiamerei pure a fare questa cosa ma la mia paura è che ci mettiamo il doppio del tempo che ci metto io a farlo da sola lo dicono di fare con calma perché comunque non è perché parte che non so se da comunque veramente da un party scherzo avremmo ricevuto senza esagerare mezzo milione di messaggi messaggi no medi commenti che hanno che hanno fatto i messaggi io dopo non sono riuscito e mi dispiace non essere riuscito ma c'è un affetto una c'è una messa sentita un attimo sola te dico seguito i loro consigli prima dell'intervento che io ero un po spaventata dall'anestesia so sincero perché quando ero piccolo ho fatto un intervento che sono massa un po traumatizzata ma erano passati 40 anni erano 40 anni fa insomma e quindi tutti quanti mi avete detto chi l'aveva fatta insomma quello che però insomma tutto tutto bene sono soddisfatta nel senso mi sono tolto un pensiero non vedo l'ora di ritorno a fa pieno pieno ritmo tutto quello che facevo prima qualche anno fa insomma quindi riprende me curo dell'orto giardino ci siamo quasi ci siamo quasi ok qualcuno chiede per la versione in più di uno di solo versione salata o questo sì che è una domanda ovvio si può fare in versione salata certo che si può fare in versione salata in realtà ci abbiamo già una ricetta che abbiamo fatto un po di tempo fa comunque comunque potete fare tranquillamente questa ricetta qui eliminando un po di zucchero mettetelo sempre perché aiuta la levitazione che di mari un cucchiaio di zucchero mettetelo comunque nell'impasto mettete un po di sale potete mettendo un po di diciamo se vi piace un po di formaggio formaggio grattugiato pecorino e mezzo all'impasto chiaramente non il limone grattugiato naturalmente però è un po modificata la ricetta il latte lo potete mettere uno si può immaginare per esempio con dentro il gorgonzola proprio estremo cioè ma proprio no va bene le tante cose che si possono mettere dentro la salsiccia mozzinella salsiccia una ragazza io perché ho preso spunto la ragazza che sicuramente il gorgonzola comunque sì vabbè poi ripieni sono mille salame come proseguono i lavori in giardino un belirio purtroppo ha piovuto quindi sarà un po un disastro però abbiamo fatto stiamo facendo stiamo facendo stiamo rendendo la nostra casa molto molto ecologica cioè io cerco cerco di usci poco fuori perché io sono un po che mi piace l'ordine no tutto quando vede tutto quando fosse quindi vede sta diciamo questo disordine intorno a casa un po soffro però come si dice se fa per il meglio no per una cosa anche bella di la racconta un pochettino quello come ce l'avevi in mente così andando stiamo praticamente avevamo un giardino che dovevamo rinnovare avevamo le piante da frutto che si erano ormai avevano quasi vent'anni quindi andavano comunque rinnovata rinnovate le piante da frutto avevamo l'impianto di irrigazione che avevamo fatto noi in economia all'inizio quindi era molto che sprecava acqua per claudia del colpo dei grazi tra un po distrutto eccetera e che altro i giardini il prato ormai era molto messo male a un certo punto sai dobbiamo fare tutti questi lavori qua a un certo punto mettiamoci le mani per bene e facciamo un bel giardino rinnoviamo il giardino e a quel punto facciamo anche tutto quei passaggi per rendere la casa più eco sostenibile è una cosa che volevamo fa da tanti anni diciamo mettere i pannelli fotovoltaici il recupero delle acque piovane per i regali il giardino insomma tutti poi ve lo racconteremo per bene adesso finiamo di fare il denubbio comunque si stiamo rinnovando un po stiamo rinnovando un po la parte esterna e la parte c'è claude che un attimo ma c'è qui c'era mi sembra che c'era il mio angoletto dove facevo la pipì e non c'è più e si trova un po però ha trovato altri angoletti che cosa sarà bello perché ci sarà un brutteto c'è un bell'orto facciamo uno spazio per i fiori insomma tutto vediamo andiamo al dolce andiamo al dolce non parla allora così mi porti una pezzetta di microfibra per pulire si vuoi che faccio io lascia bella facciata qua eccola che la gioia e pari a strano ce la ce l'ho ok ce l'ho fatta faccio vedere il risultato possiamo siamo quasi alla alla fine a piano piano senza dobbiamo mettere la farcitura però questa era la parte più lenta scusate già dentro la decorazione solo abbiamo scusate se mettete annoiato scusate tanto io ho provato intrattenere una benedetta che lenta ok ci siamo allora abbiamo fatto tutte le palline l'abbiamo sistemato in questa teglia del diametro di 26 28 cm di diametro adesso dobbiamo far fare una seconda lievitazione prima di cuocerlo quindi la copro con la pellicola la metto ancora al caldo e la faccio lievitare faccio lievitare il danubio per ancora una ventina di minuti ok effetto speciale vai abbiamo l'effetto speciale adesso lo rimando un'altra volta perché non sono andato a tempo l'ho mandato prima che tu mette scusate è il bello della diretta o che lei ha messo la pellicola quanti quanto tempo devi lievitare almeno 20 minuti che fa ci sto a mettere la pellicola stavi a fare l'effetto speciale stavi a fare l'effetto di 20 minuti allora almeno 20 minuti al caldo vi accorgete che ora di infornare perché vedete che le palline si iniziano ad incastrare meglio tra di loro adesso ci stanno degli spazzetti in realtà iniziano un pochettino a gonfiarsi e diciamo c'è l'effetto speciale adesso lo mandano che grazie vedi 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 come cresce ok ha lievitato perché l'effetto speciale ha fatto di vita stanca ok l'effetto è questo ok capito facciamo finta che hanno lievitato come da effetto speciale facciamo finta che hanno lievitato come da effetto speciale e quindi siamo pronti ad impornare e imporniamo noi spennellare niente non vanno spennellate cioè questa fa non pensavo che ti dimenticare il passaggio non vanno spennellato questo non è come la basta sfoglia no scusa cancellate tutto cancella taglia sto pezzo allora abbiamo fatto fare la seconda lievitazione ok allora il danubbio ha fatto la seconda lievitazione immaginatelo avete visto non ce l'ho lievitato a lievitato ok ha lievitato questa cosa dirette difficile per quello se non si chiamava diretta ok vai e adesso dopo l'idea deve cuocere dai ma ci abbiamo 10 mila persone questa non farà più se tu che mi fai confusione che poi allora lo sponsor che dice pure lo sponsor scusate 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 lui mi sta confondendo torniamo torniamo a noi anche perché adesso dobbiamo fare la classe che è la parte più fenografica benissimo quindi cottura proprio perché devo fare cottura prima cottura quindi il danubbio ha lievitato seconda lievitazione possiamo infornarlo quindi facciamo scaldare il forno a 170 gradi lo inforniamo e lo facciamo cuocere per 30 35 minuti fino a quando non diventa bello non diventa bello dorato ok fai finta che imporni e adesso parte la cottura guarda che bello che eccolo qua ok sforniamo aspetta prima di sfornare ce l'ho io ce l'ho io sono in forno acero ed un danubbio ok però nel frattempo per preparare la glassa si vado che sopra mi ha fatto arrivando a come farina metto a scaldare un pochettino d'acqua ok su un venturino faccio scaldare l'acqua che mi servirà per preparare la glassa di copertura è qua perché sennò ciao la settimana ok ok quindi per la glassa perché mi si è passato la roba che io un attimo devo sfornare lo mette sul piatto è ovviamente la parte perfetta da me la vera della riprendere ok no però possiamo anticipare per la glassa di copertura ci serviranno 250 grammi di zucchero al velo vanigliato e quattro cucchiai d'acqua bollente ok che facciamo praticamente appena l'acqua è calda metto questa una ciotolina piano piano aggiungo l'acqua mescolo fino a quando non si crea una una glassa bella densa che userò per ricoprire il dolce e subito vado ad aggiungere gli zuccherini colorati che daranno prima sforni quindi prima sforno poi forno se me lo concede sfornamento ok così il sfornaggio sfornamento senti che fragranza questo da nuvio io parte quel sogno che ho fatto stanotte poter essere il monitore non è detto che era un incubo eccolo qua eccolo qui bellissimo aspetta ve lo faccio vedere bene vedete in cottura come si uniscono le palline mi serve un piatto per girarlo ok e anche molto soffice perché per metto sempre a posto le presine se lo togliamo lo stampo e mettiamo su un piatto bello 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 è visto è già molto scenografico così il danubio lo potete anche già servire così con una spolverata di zucchero a velo ok però non ho detto niente non ho detto niente sì c'è ragione possiamo solo combatterebbe un po di zucchero a velo sopra anche niente oppure ok oppure potete fare anche l'effetto maritozzo che come si fa da noi non so se lo conoscete come si fa allora una volta sfornato quando il danubio ancora molto caldo potete spennellare la superficie con dell'acqua e subito buttare sopra lo zucchero semolato vi farà quel rimarrà quello strato croccantino di zucchero molto gustoso ok ma visto che aspettiamo che si scalda l'acqua oppure un altro modo per coprirlo visto che l'abbiamo fatto il cioccolato potrebbe essere una bella colata del cioccolato fondente sciolto sopra la glassa cioccolato fondente sì che oppure fare fare una glassa al cioccolato con queste queste qui aggiungere due cucchiai di cava amaro e fare una glassa al cioccolato si lui cerca sempre dei pistani si insomma si può potete decorare in mille modi ma anche semplici è così è già giuro vero via secondo me è il top ok ma in questo caso siccome c'è il carnevale e dobbiamo dargli un tema carnevalesco e colorato e simpatico useremo le palline arcobaleno che questo è insomma per carnevale sopra le frappe sopra i danni di carnevale se possono mette pure insomma sopra i biscotti di carnevale a mascherina possiamo metterla dappertutto va beh intanto iniziamo quindi useremo zucchero vero e 250 grammi di zucchero a velo vanigliato su due buste io l'utilizzo vanigliato ma va bene anche lo zucchero avvero normale e se volete potete aggiungere un aroma che ne so qualche goccina di senza limone per farlo come al limone voglio proprio normale oppure l'arancia ok prendo io e adesso quando ce ne metti di acqua allora l'incirca 4 cucchiai mettiamo un cucchiaio alla volta perché ci dobbiamo un pochettino regolare anche perché i cucchiai non sono tutti uguali qualcuno un po più grande qualcuno un po più piccolo quindi intanto metto un cucchiaio d'acqua bollente ed inizio a mescolare poi prendo un altro cucchiaio perché sennò faccio un pasticcio della stessa misura ok due cucchiai e mescolo fate assorbire tutta l'acqua prima di aggiungere il cucchiaio successivo o grazie a tutti i ragazzi che state facendo compagnie ne sono tanti sono tante persone vedete già come inizia a prende forma la grassa quindi fate assorbire più possibile lo zucchero e aggiungete ancora l'acqua perché l'acqua calda perché evaporando praticamente la classe diventa più diventa solida ok quindi quando prendete dolce per non vi sporcate le mani ok abbiamo messi quattro cucchiai forse ne serve un po di più o basta così ma io preferisco che c'è una classa bella densa perché bella precisa non ho pensato a qua sembrava più densa allora se questa classa la volete preparare in anticipo mi raccomando copritela con la pellicola perché se non si asciuga secca e quindi non riuscite più a metterla ricordiamo ci promette anche un po di essenza non ci sarebbe sì questa idea che l'ha detta tu io l'ho ripetuto perché mi è piaciuto come dire non mi sa che una volta avevamo fatto e adesso mettiamo la grassa sopra al dolce bella bella questa è la stessa grassa che si mette anche sui cinnamon rolls esatto si può mettere anche sopra da noi si fa a pasqua si fa la pizza di pasqua da noi si dice che un panettone che si fa sempre con i canditi dentro l'uvetta un panettone dolce e ci si mette sta la grassa sopra e ci si mettono stesso di zuccherini sì ebbè forse anche la cannella sono un pizzico di cannella ci potrebbe mettere al gusto per me questo dovete scegliere voi il gusto che più vi piace a me la grassa al limone per ditte piace tantissimo ma bastano proprio due goccine di roma e limone pane angeli quante informazioni ci dai benedetta grazie ragazzi questa poi la diretta la lasciamo la lasciamo quindi se la potete rivedere vi metto anche i capitoli così se volete passare da una parte all'altra potete fare velocemente che mente è stata molto molto lento vi chiedo scusa per lei però ci abbiamo messo già con le spiegazioni tutto quanto ah c'è una ragazza che dice invece dell'acqua aggiunge proprio del succo di limone ma certo si può ma benissimo se l'avamo fatto anche noi ho fatto anche un mento su un video mi ricordo la potete anche fa colorata è la grassa io adesso lo sto facendo bianca però se uno mette dei coloranti insomma va bene anche giallo tipo uno fa tipo lo potrebbe colorare con il colorante rosso diventa rosa diventa bella devo specia perché altrimenti si asciugano mesi attaccano i zuccheri sopra bella precisa ecco non si mangia in diretta ma visto niente nessuno ok andiamo di zuccherini poteva essere più precisa ma questa classe va bene anche per le ciambelle strozzose sì 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 è proprio quella sì sì e poi i mo mettiamo le palline dopo le palline colorate come si chiamano palline colorate palline arcobaleno palline arcobaleno scusa palline arcobaleno pane angeli li copriamo con le palline o comunque come 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 faccio le dirette io a tutte con tutti gli effetti speciali e modulo dei casini che fai tu pure fatto per poi che sì però dai grazie cosa ok o è venuta proprio bella e certo che bella fatto in casa per poi sempre quasi che non hai fatto dove quando è bella guarda basta bellissima bella bella o ti dico la verità questo per carnevale ok ma proprio bella anche per fasco e bella sempre questa è un'idea per fare il danubio leggermente diverso dal solito dove dà c'è l'idea anche per farlo per natale se non volesse fare decorarlo ma uno può mettere sopra le decorazioni del natale quelli lì di zucchero no a tema natale se possono sì che poi lo rifanno di bocone angeli oppure tipo ci metti i cosi come si chiamano i diversi però ogni tanto mio marito grazie grazie fa il tipo grassa più ribes grassa più ribes no però 10 le ciliegie candite come avevamo fatto una volta ciliegie tutte ciliegine candite sopra insomma così quella insomma e questo e è il mio danubio dolce di carnevale ripieno ripieno con crema al cioccolato mi dispiace a romperlo beh no adesso lo porto sulla nonna e dc anche perché ma loro si aspettano da qualcosa mi ha portato niente io per carnevale che poi quindi la diretta finisce qua perché benestate portando c'è la nonna comunque volevo aprirlo no no così tanto quello che hanno fatto le prove se lo facciamo dentro possiamo far vedere quello di prova dai ce l'abbiamo perché questo è un peccato allora io intanto vi posso rica per recap gli ingredienti marco si vai diamo tutti gli ingredienti guarda di nuovo metto la grafica un attimo così ci abbiamo tutti gli ingredienti ok quindi abbiamo fatto il pan brioche con un uovo 100 grammi di zucchero 60 ml di olio di semi di girasole la scorza di un limone 250 ml di latte 550 grammi di farina meglio manitoba metà meglio metà ma manitoba metà 00 e una busta di dolci lievitati pronto il pan brioche abbiamo fatto la crema di farcitura semplicissima perché l'abbiamo fatta con la crema al gusto cioccolato una busta di crema al gusto cioccolato pane angeli e 200 ml di latte abbiamo frullato e abbiamo preparato la crema abbiamo assemblato dato forma al danubio l'abbiamo fatto la seconda lievitazione insomma abbiamo infornato e abbiamo fatto la glassa di copertura per la glassa di copertura abbiamo utilizzato 250 grammi di zucchero al velo pane angeli vanigliato e 4 cucchiai di acqua bollente e abbiamo decorato con pallina arcobaleno per dare appunto il tema di carnevale no vabbè puoi aprire tanto ci abbiamo pure quest'attività porta a questo atto nonno ok ok vediamo che possiamo aprire così vediamo la crema dentro dai diciamo mi dispiace è un beccato rompelo lo so e dispiace facciamo vedere anche come si rompe come soffice no sì sì quello non è un problema perché mi dispiace proprio rompe noi vabbè dai lo faccio col coltello si strappolo via se non ho mai fatto un po tu vado io vai aspetta mi faccio un attimo lo fai questa cosa dai eccolo guarda che bello è un momento pure mangiare parte che se facciamo colare un po di grassa non si capisce che ci manca un pezzo bellissimo questo è super soffice l'ultima cosa che vi volevo dire prima di mangiare ok la bocca piena allora mi chiedete spesso come si conservano questi dolci lievitati allora il mio consiglio è di metterli in un sacchetto di plastica per alimenti quindi che inserite dentro questo per due tre giorni utilizzando questo lievito mi rimane super soffice se non fate qualsiasi dolce lievitato se lo mettete leggermente tiepido all'interno di un sacchetto di plastica quella leggera umidità che diciamo si forma durante il raffreddamento lo rende ancora più soffice quindi smettetelo dentro tiepido se volete farli potete congelarli a una volta fatti dolci anche questo quasi non fate la classe lo potete congelare e lo tirate fuori la sera prima poi magari lo riscaldate la mattina che ne so perché fino a questo che non fa tipo tanti maritozzi tanti ma anche questo qua e la classe la fa del momento di servire che altro dobbiamo dire sostituzione abbiamo dette senza uova l'ho detto no no ok se volete fare questo dolce senza uova togliete l'uovo del pan brioche lo sostituito con mezzo vasetto di yogurt nella crema non ci sono uova quindi è perfetto se volete farlo integrale come avete chiesto prima il mio consiglio di utilizzare 250 grammi di farina integrale 250 grammi di farina zero di non fare 500 grammi di farina integrale dico 500 grammi non 550 come la ricetta perché la farina integrale più fibrosa quindi probabilmente servirà un pochettino meno se volete farlo se volete sostituire lo zucchero con lo zucchero di canna potete farlo tranquillamente se potete per il ripieno potete utilizzare tanti tipi di farcitura io ho utilizzato la crema al cioccolato ma potete utilizzare crema pasticcera marmellata marmellata senza zucchero se lo volete fare integrale crema spalmabile alla nocciola al pistacchio dei pezzetti dei tocchi dice come si chiama cioccolato cioccolatini oppure se potete darli anche io farlo il danubbio classico si fa tondo però potete anche fare su una teglia rettangolare anche molto scenografico e carino oppure come avevo suggerito io potete fare utilizzare i paninetti per fare ad esempio i numeri per un compleanno che è anche quello magari le candeline sopra ogni paninetto e mettete anche la glassa soprattutto molto carino anche così oppure fate un bel millepiedi anche quello molto prima volta un dolce millepiedi ok potete fare la versione salata ma l'avete suggerito voi me l'avete chiesto lo potete fare tranquillamente togliendo la maggior parte dello zucchero lasciato in un cucchiaio però mettendo il sale e nell'impasto togliere la buccia grattugiata del limone e mettere un po di formaggio grattugiato tipo il pecorino se vi piace e per il ripieno spazio la fantasia quindi salsiccia provola funghi insomma questa quella quella è tutta un'altra storia e questo è un'altra storia e io direi che salutiamo perché abbiamo annoiato abbastanza perché insomma volvo rubato un po tempo dieci primi dieci minuti sempre così ringraziamo pani angeli per per questa collaborazione bellissima che dura tanto tempo e vi consiglio i loro prodotti perché insomma se per una riuscita perfetta non mi sento proprio di consigliarveli provate questo da nubbio fatemi sapere se vi piace se avete domande suggerimenti scrivetele sotto nei commenti se il video vi è piaciuto tanti bei like condividete e noi ci vediamo alla prossima ricetta va bene assaggio vado è buonissimo devo dire che favore quando è soffice adesso è certo che sto perché non me lo dai scusa non devo prendere peso ma salutiamo a bocca piena buonissimo portami terbo quando lo mangia tutto delicatissimo mi nipote ci siamo quando va a mangiare portiamo in giro veniamo in giro grazie grazie ragazzi della compagnia e ci vediamo la prossima ricetta grazie a tutti